Ciao, io sono Magic Graph e ti porterò nel fantastico mondo della grafica e della pubblicità. In questa sola puntata cominciamo a vedere come funziona un'agenzia pubblicitaria. Pronto? Agenzia di pubblicità Sgang, l'agenzia più sgangerata del mondo. In cosa possiamo esserle utile? Pronto, sono il signor Scanna Capra. Sono il titolare dell'omonimo ristorante vegetariano. Ho bisogno della vostra consulenza per migliorare l'immagine del mio ristorante ed attirare più clienti. Perché il mio locale è sempre vuoto! Il nostro insuperabile staff di professionisti della grafica e della comunicazione risolverà i suoi problemi. Giuston abbiamo un problema! Adesso intervengo io! Spide è ora! Cambiamo nome al ristorante! Ora sappiamo che l'agenzia pubblicitaria si occupa anche del network, ossia di ideazioni del nome di un'azienda o di un prodotto. Ma sono ancora tantissime le cose da dire sulla grafica, per cui vi do appuntamento al prossimo episodio per conoscere ancora meglio il mondo della pubblicità. Ti aggiungi, si direi!